Questo è recitare, che poi Giovello dice con molta chiarezza, il camminare, che è un gesto, deve accompagnare il testo. Ora lasciatemi andare, non cercate di accompagnarmi. Pausa. Quindi hai creato un'atmosfera, io sono talmente sedotto da questa atmosfera che dico, il testo finisce così. Questa è una riflessione sul testo. Questa è una riflessione.